Ci siamo signori Siamo qui Per il Terzo episodio Let's go E' tornata la catte woman Selina Achille Allora io voglio essere sincero Se ci sono degli sviluppi a livello di romance con Selina Io cercherò di dire no grazie Dicendo robe del tipo Hai avuto la tua occasione Ora basta Fottiti E voglio andare su John Totalmente Se si può Dici voglio provare Voglio salvarlo Voglio tenerlo con me Prima di andare avanti Riavvio la pagina Per essere sicuro che si è partito tutto Un attimo Scusate Riavvio la pagina Però forse se Harley non c'è ed è stata catturata Ora io non so se viene catturata a prescindere Ma se ho fatto sì che venisse catturata Vuol dire Che fuori dai piedi mi posso lavorare Già Farò diventare buono No A me sì Stavo aspettando che Ok a posto Ho la conferma che siamo partiti Che siamo partiti ero sicuro Dovevo avere la conferma che stessi registrando a live Filatevi a volte è successo Ok a posto Ok a posto I have are questions What is the pact really after Why steal Riddler's body Friend Or foe Nice place you got here Did it come with the vermin Or did you add that yourselves This everyone? Riddler mentioned Harley Miss Quinn is otherwise occupied Or crossing the river Or crossing the river stinks Oh no Enough pleasantries You have the device Excellent Harley said your gems were in her safe If she fails to return You can pester John He knows the code It's fine It's fine We can start It's fine we can start It's fine we can start